segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te teo io le voglio chiedere perché oltre a questa diciamo rimozione della guerra per cui ci infastidisce ci irrita quasi vedere queste immagini c'è quasi un senso di colpa ogni volta che qualcuno prova a dire ma insomma bisogna cercare una soluzione per fermare le armi il cessate il fuoco che cosa c'è che non funziona nella diciamo nel sentimento della della pubblica opinione rispetto a questa opzione che è un'opzione che naturalmente toglierebbe di mezzo le armi questa carneficina che si sta consumando ma a me sembrano due problemi uno che tutti quanti noi cerchiamo di di non essere travolti di non confrontarci con con qualcosa di terribile di angosciante poi con cui le scintille arrivano fino a noi le conseguenze le abbiamo già pagate le paga anche tutto è davvero un pezzo di guerra mondiale pensate al grano e l'africa per esempio no a me che sembra anche come analogia un po quello che successe anche con la pandemia del covite no che all'inizio sembrava un'esagerazione all'inizio sembra un po vabbè andrà tutto bene che era un po sì per far stare tranquilli più piccoli però poi ci credevamo pure noi che alla fine andrà tutto bene e non è così dobbiamo guardare in faccia i problemi guardare la tragedia che 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 sta avvenendo e l'altra domanda vera è quella che ha fatto il papa cioè abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare che esattamente il contrario mi sembra cioè è quella di dire e quindi di chiedere a tutti di fare qualche cosa e di pensare che forse non abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare devo dire anche in poi anni prima io cioè la violenza nel Donbass non è che comincia un anno fa no purtroppo e molte volte abbiamo pensato ma tanto è una una violenza a bassa intensità la violenza non è mai la bassa intensità è sempre pericolosa cioè va sempre sconfitta e dobbiamo dire che è così che c'è stata così poca attenzione per favorire per imperre per spegnere il fuoco e per favorire delle soluzioni per applicare gli accordi e peraltro dobbiamo anche ricordarci la storia della violenza la storia della guerra Don Matteo cioè quando lei prima diceva insomma faceva un appello alla preghiera io non credo di dire qualcosa di insensato di eccessivo immaginando che dopo che diciamo l'offerta di mediazione di Papa Francesco è stata accolta anche da da Mosca ci sia un un lavorio sotterraneo per riuscire a trovare una una via d'uscita a questa guerra sto sbagliando io me lo auguro sono quello che conosco di Papa Francesco direi che certamente non si dà pace e per cui credo sicuramente cercherà di trovare tutti quanti i modi purtroppo anche così anche a doversi arrendere no ma noi in realtà non si arrende cioè non molla davvero non si dà pace ecco non dovremmo darci pace per la pace credo che tutti quanti ci ricordiamo la commozione l'8 dicembre forse vi ricordate quando andò a Piazza di Spagna e disse e a un certo punto non riusciva ad andare avanti no perché disse io volevo essere qui per dire che è finita e poi si appunto non riusciva ad andare avanti perché gli veniva da piangere invece siamo qui ancora a chiedere e si capisce l'urgenza che sente credo che per chi vive quella tragedia e non vede l'ora che finisca insomma per cui sì no penso che non si darà pace sono sono sicuro che Paolo Francesco cercherà di trovare tutti gli spazi possibili le sfumature possibili e tessere anche perché poi arrivare al dialogo è anche un po così un mettere assieme spingere e Kissinger mi ha colpito perché insomma c'ha 99 anni ma mi sembra che ancora tutto funziona disse a ottobre cominciamo subito dei dialoghi dei negoziati almeno esplorativi bene questo credo che ci sono tanti modi proprio usato anche un'altra volta un'espressione anche informali cioè come dire il dialogo si manifesta ma insomma c'è tanti modi come non mi ricordo come hai detto prima tu insomma di fare tutto è possibile ecco speriamo di sì sì c'è il questo filosofo tedesco Jürgen Habermas che diciamo ha scritto pochi giorni fa una sua analisi su questa situazione dicendo guardate il diritto alla difesa la Russia è l'aggressore l'Ucraina è il paese che si deve difendere quindi è giusto che abbia gli strumenti per difendersi però l'invio di armi non è un gesto neutrale è un gesto che implica una corresponsabilità e in virtù di questa corresponsabilità noi ne abbiamo un'altra che è proprio quella di cercare la via negoziale ovvero la via che porti alla pace condivide questa analisi sì certo condivido perché penso che dobbiamo appunto fare tutto il possibile e penso la domanda del Papa anche un po' retorica cioè non abbiamo fatto tutto il possibile in molti casi abbiamo accettato subinamente o siamo stati un po' a guardare pensiamo l'Europa in questo senso deve deve osare di più deve cercare appunto delle ricordandosi le cause perché la guerra purtroppo è una logica e bisogna montare la logica o cercare di risolvere di sanare di guarire di trovare altre risposte per quelle per quella quei motivi quelle quelle ragioni o non ragioni follie ovviamente che però hanno provocato il conflitto sì no penso che ci abbia ragione quando lei dice una logica intende una storia cioè la guerra ha una storia non non arriva così all'improvviso come un fulmine sì no qui quando noi ci svegliamo pensiamo ma guarda che è successo dimenticandoci appunto per esempio della violenza che che dal 14 a oggi ha sempre attraversato a volte in maniera più grande più più forte altre volte effettivamente a bassa intensità però dobbiamo dire abbiamo pensato vabbè se risolveranno loro oppure troveremmo altre soluzioni no c'è sempre una storia per questo dobbiamo ricordarcela non c'è dubbio anche conoscerla in molti casi non conosciamo in molti casi ci schiediamo subito e purtroppo facciamo poco lo sforzo di entrare nella complessità dei problemi attenzione che non significa sminuire le responsabilità ecco lo dico perché qualche volta siamo talmente presi dall'antagonismo che bisogna certo benissimo aggressore aggredito e dopo di che si comincia anche però all'interno di questo a capire e quindi anche per trovare le soluzioni possibili Don Matteo io la ringrazio credo che chi ha ascoltato tra le righe e tra le parole possa trovare anche diciamo delle risposte più chiare di quelle che giustamente lei a volte in modo diplomatico ci ha dato grazie Don Matteo davvero no grazie 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 anche di questa attenzione che avete e anche di farci rivivere farci capire e spingerci davvero a fare tutto il possibile perché venga presto la pace grazie davvero grazie buon riposo e allora